Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Oggi discuteremo dell'importante annuncio trasmesso dalla RAI che ha costretto la interruzione della trasmissione condotta da Carlo Conti. Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, l'Iran ha lanciato centinaia di droni verso Israele, segnando un escalation della tensione nel Medio Oriente. Il TG1 ha dovuto interrompere la trasmissione dei migliori anni condotta da Carlo Conti per mandare in onda un'edizione straordinaria, informando il pubblico sugli attacchi, suscitando immediata e seria preoccupazione per possibili ripercussioni a livello internazionale. Dopo la breve interruzione, la trasmissione è ripresa, ma l'atmosfera in studio era tesa, con Carlo Conti visibilmente turbato. Il conduttore ha espresso il suo disappunto per gli eventi, affermando, non è facile riprendere lo show dopo queste terribili notizie che arrivano da terre martoriate. Successivamente, ha introdotto il cantante Raph per eseguire la canzone infinito, cercando di portare una nota di speranza attraverso la musica, dicendo, speriamo e confidiamo in tanti uomini di buona volontà che possano comprendere questo. Il sistema di difesa israeliano ha risposto efficacemente intercettando la maggior parte dei droni e dei missili lanciati. Tuttavia, la situazione rimane tesa e incerta. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato il continuo supporto a Israele, ma ha specificato che non sosterrà azioni militari unilaterali da parte di Israele in territorio iracheno.